Peppina, questo ci piace. Peppina non ti beve la mattina né con il latte né con te ma perché, perché, perché la Peppina fa il caffè fa il caffè con la cioccolata Tu no! Molto da una pizza Che caffè Della peppina non si beve la mattina né con il latte né con te ma perché, perché, perché Guarda che ti dà Guarda che ti dà Grazie Grazie Buono! Buonissimo! Buonissimo! Ma perché, perché, perché Fa il caffè Se hai fatto i peppini Beh! 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 Chi è il caffè della Peppina? Che caffè è? Che caffè nella peppina Non si beve la mattina né con il latte né con te Ma perché, perché, perché Non si beve la mattina né con il latte né con te Ma perché, perché, perché Perché? Ma perché? Ti piace?